Nei mesi estivi il mercato orionale di Batipaia potrebbe diventare notturno. È la proposta dell'Associazione Mercà che riunisce tutti gli ambulanti del mercato che da mesi chiedono un mercatino al coperto. In base al sondaggio proposto sui social dal presidente Nico Rio, a cui hanno risposto circa mille persone, oltre il 90% di questi si sarebbe dichiarato a favore dell'idea. Il sondaggio durerà altri quattro giorni, al termine dei quali la palla passerà all'amministrazione che dovrà procedere con l'iter burocratico. Tra le richieste dei commercianti c'è anche quella avanzata da anni di ottenere negli spazi antistanti lo stadio Sant'Anna un mercato permanentemente al coperto dotato di servizi igienici adeguati.